Anticipo che probabilmente adesso stiamo organizzando questa nuova esperienza, saremo ambasciatori del gusto per la settimana dell'enogastronomia italiana a Calcutta. Questo appuntamento è previsto nel mese di novembre, stiamo cercando di tessere le fila per questo nuovo progetto e io credo che assolutamente tutto il nostro corpo docente è all'altezza per accogliere le sfide del momento.